È sicuramente una bella sensazione, mi sono preparato molto quest'inverno per migliorare le altre posizioni, ovviamente d'aria compressa rimango il campione del mondo però non mi piace più così tanto, qui posso migliorarmi ancora molto per quanto riguarda in ginocchio, in piedi potrei spingere ancora un po' di più, quindi c'è ancora margine di miglioramento. Oggi è stata onestamente non molto una gara di tirassegno, era più una gara di sopravvivenza perché il freddo era tale che insomma entravano i fremiti per quanto riguarda in piedi e in ginocchio, comunque siamo sopravvissuti. No, questa è sicuramente molto importante perché comunque si fa una prova per quanto riguarda le luci, l'altezza dei bersagli, il vento che qui c'è molto vento e mi immagino non sarà molto diverso a luglio, quindi è sicuramente un'esperienza importante. Poi ho fatto una finale di aria compressa, ho fatto una finale di 3P, quindi ho conosciuto anche la final all e poi è arrivata questa medaglia e sicuramente è un bel ricordo in questo poligono in vista delle Olimpiadi. Sicuramente ora i miei genitori non li vedo da Natale perché ho fatto la preparazione in Colorado Spring con Emmons e il resto della squadra americana, quindi sono stato molto lontano da casa, sono contento di tornare a casa fra una settimana e di rivederli. Un saluto, ciao!